Firenze, magica viola, che gli stadi fai tremare, fammi cantare, uomo di giorni di vittoria. Firenze viola e dei fiorentini in coro, siamo una cosa sola, tutti insieme forza viola, siamo una cosa sola e domani forza viola. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori che ci guardano a casa, ci troviamo qui al ristorante Le Lance di Fiesole, da nostri amici Artemio e Simone, un sacco di ospiti qui con noi stasera e insieme parleremo della nostra viola, vero Salvatore? Innanzitutto voglio presentare te, il re di una bustata, Salvatore Scaravilli. Allora lei la faccio partire sempre per prima perché da un po' di tempo è diventata una star. Lei è diventata una star perché ha girato un film, presenta le serate di Miss Mondo, è diventata amica di Artemio che naturalmente è un personaggio che ha una produzione di vini e ti farebbe comodo per il tuo negozio. E poi giustamente lei è infilata in tutte le cose più importanti, per esempio ci ha portato in televisione Giovanni Bogani, che voi conoscete un giornalista di prima categoria, il quale tutte le sere è con Marzullo alla RAI, è un amico di lei, adesso vuole fargli già un film con Pieraccioni, quindi non lo so, insomma non sappiamo dove dobbiamo fare. Non parliamo di me, ma presentiamo tutti i nostri ospiti. Cominciamo da Pietro Targioni, buonasera Pietro, un applauso. Andrea Pierini, domenico Laganà che è al tavolo là, però lui ha preferito stare al tavolo, ha preferito stare al tavolo ma noi lo presentiamo lo stesso. Stefano Rossi detto Poldino o Poldino detto Stefano Rossi, giornalista di Viola News, e Radio Blu, bene, Bigliotti Fabrizio, grande Bigliotti Fabrizio, che ha qui tutta la famiglia, tutta la famiglia è qua e poi anche loro parleranno di calcio, poi Sauro Nuziati, un personaggio che per me vuol dire la giovinezza, perché con lui ho giocato al calcio, ho vinto un campionato, abbiamo vinto un campionato senza perdere una partita, una cosa incredibile, veramente bravo, un grande calciatore, adesso un grande imprenditore, perché c'ha la famiglia qua e con il suo figlio poi parleremo. Poi abbiamo Cristian Gallo, cantante, cantante, fotomodello, durante la trasmissione poi vedrete anche mentre indossa qualcosa di importante, poi abbiamo un regista, Jonathan Chiellini, regista cinematografico e anche cantante, e anche un cantante. Accidente, quante nomine, ti ringrazio. E infine, Mingozzi Lorenzo, buonasera Mingozzi. Buonasera. Allora, abbiamo presentato già, Artemio l'abbiamo già presentato, Simone l'abbiamo presentato, adesso dobbiamo dire che in mezzo a questi tavoli che poi intervisteremo abbiamo la Stefania Uchi, la Stefania Uchi, fategli un applauso e laggiù, lei è attrice delle Iene, quindi alle Iene l'avete vista qualche volta, quindi è un personaggio importante, ha un'agenzia di spettacoli insieme a Jonathan Chiellini, quindi poi ne parleremo. Cosa dobbiamo dire? Io volevo salutare anche la cucina di Francesco Vipoli, perché quella è troppo forte, lei la vedrete qua stasera in una cosa che vi farà impazzire da ridere, non ve lo anticipo. Non lo anticipiamo. Va bene? Allora, partiamo subito con... Parliamo di Fiorentina. Di Fiorentina. Allora sappiamo che dobbiamo incontrare l'Inte, cara Uccia. Dobbiamo incontrare l'Inte, purtroppo veniamo da una sconfitta piuttosto brutta, anzi senza il piuttosto, con la Juve di sabato scorso e quindi insomma abbiamo molto da parlare. Sì, e la faccenda della Juve, ormai non ne parliamo più perché ci hanno preso un po' in giro, poi vedrete anche nelle frustrate che abbiamo preparato che cosa non succede. E partiamo con i nostri ospiti qua, seduti. Da chi vuoi partire? Partiamo da Poldino, perché lui è fisso in tradizione da noi. Come dici te, dobbiamo seguire una burocrazia. Dobbiamo seguire una prassi, una burocrazia. Lui è ospite fisso della frustata da Mendi. Parliamo Stefano. Allora, caro Poldino, che cosa hai provato dopo questa sconfitta e che cosa vuoi dire per l'incontro con l'Inte? È stata una sconfitta bruciante, una sconfitta inaspettata per come è arrivato, perché a Torino ci sta di perdere, parliamoci chiaro. Il fatto è che non si può andare a Torino e rinunciare per più di metà partita, di lottare, di cercare di giocare e di fare punti. Sono piuttosto dispiaciuto. Ho provato da questa sconfitta. Era arrivato anche Diego della Valle. Ero convinto che la squadra potesse fare risultato. Così non è stato. Comunque è importante non fare nessun tipo di disfattismo, perché la zona Champions League dista solo cinque punti in classifica. Si può ripartire subito. L'Inter è una squadra sicuramente blasonata, molto importante, ha molti singoli interessanti, ma è altresì una squadra in un momento piuttosto complicato. Quindi un risultato positivo domenica rimetterebbe subito in carreggiata la squadra. Potrebbe arrivare un risultato. mantenere le distanze, anzi farle cambiare a nostro favore rispetto ai nero-azzurri. Quindi è un turno positivo. Speriamo che Montella decida di apportare qualche cambiamento, qualche cambiamento giusto e che tutto vada per il meglio. Secondo te Cambrea ha questo modulo? Ci sarà la possibilità questa volta che lui interagisca in questo senso oppure no? Non credo. Con il modulo stiamo seguendo per quanto possibile gli allenamenti, anche con violanews.com. è difficile che Montella a questo punto del campionato decida di cambiare il modulo. Quanto piuttosto deciderà forse di cambiare gli interpreti, magari... L'inserimento dei nuovi, forse. Esattamente. Comperi in difesa, faccio qualche nome, l'Andawin attacco che nella prova contro il Parma l'abbiamo visto pimpante, attivo. Quindi insomma qualche cosa potrà cambiare. Allora vi prego di essere un po' più veloci perché essendo otto ospiti, poi ci sono i tavoli e non ce la facciamo poi. Dobbiamo stringere. Allora, Pietro Targioni, vai. Sì. Che cosa... Io penso che a parte... Cioè meglio di domenica faremo sicuramente, perché comunque in casa abbiamo il nostro pubblico dove ci ha sempre supportato, anche se nell'ultima partita non è andata molto bene, ci troveremo sempre in una situazione migliore di domenica. Probabilmente con gli interpreti diversi riusciremo ad avere un po' di novità e sarà un po' meno facile capire il nostro gioco. Si spera che anche in attacco riusciremo a fare qualche gol in più, che ultimamente è qualche partita e facciamo pochissimi gol. e sicuramente andrà meglio. Bene, grazie mille a Pietro e vorrei parlare appunto con Andrea Pierini. Secondo te che cosa sta succedendo alla Fiorentina adesso, in questo mese di gennaio, che è incominciato piuttosto male, a parte la vittoria con il Parma? Penso... La squadra secondo me non è male. L'anno è partito bene. Purtroppo non sempre può andare come si pensa, come si spera. Forse bisogna ritrovare un attimino il piglio giusto e non farsi troppi complimenti, come magari siamo partiti un po' troppo in su. Forse bisogna tornare un attimino a essere più battaglieri e farsi meno elogi da soli, prendere un attimino un po' di cattiveria. E domenica con l'Inter secondo me può essere la partita giusta, perché l'Inter è una nostra... Anzi, è una partita decisiva in questo momento del campionato, giusto? Sì, perché è una nostra pari. Io la considero... Siamo alla pari con l'Inter. Di Blasone loro sono superiori, ma noi dobbiamo metterci la cattiveria che ci contraddistingue. Bene, grazie. Allora, Fabrizio. Eccolo qua. Vai, che cosa ci dice? Speriamo che domenica si ritrovi la brillantezza che abbiamo avuto, come ha detto loro, all'inizio del campionato, cosa che più che altro è mancata domenica, perché sono rientrato anche il secondo tempo e non erano brillanti, sembravano spenti, non so. Proprio la partita più importante del campionato per noi era. Perciò speriamo che domenica si rifaccino e ci mettino l'impegno necessario per riuscire almeno a portare i tre punti a casa. Bene. Ecco, ora questo lascialo a parte. Lo lasciamo per ultimo, va bene, va bene. Allora, prendiamo Cristia, vai tu. Cristian, secondo te la squadra in questo momento sta dicendo che possa essere anche stanca arrivata a questo punto del campionato e che quindi ci sia appunto un momento, tra virgolette, di stallo. Tu credi che sia questo il problema o credi che ci sia qualcos'altro? Allora, la squadra è sembrata molto passiva, sinceramente. Ed è anche... Io credo che sicuramente ci possa essere anche un fatto fisico ed è normale perché una squadra non può andare a mille per tutta la stagione. però credo che, a mio modesto parere, ci voglia anche un po' di... a volte di coraggio, nel senso se la squadra sta cambiando e cambia anche la condizione fisica l'allenatore dovrebbe avere anche un po' più di coraggio anche un po' a cambiare le sue idee, nel senso magari cambiare qualcosa e non avere la stessa impostazione tattica che a volte che a volte un allenatore dà a seconda della propria condizione. Quindi, per me, cambiare qualcosa a livello tattico non sarebbe male adesso. Bene, grazie mille Cristian. Allora, Sauro, non siate. L'ho lasciato per me perché, ve l'ho detto, ormai e lui abbiamo vissuto tanti anni anche nello sport, nel minore, eccetera, eccetera. Adesso non pensavi che la Fiorentina dopo tanti anni oscuri perché ora sono passati diversi anni tornasse un po' alla ribalta, così. Mi stai chiedendo della partita di domenica? No, io ti sto chiedendo della Fiorentina in questo momento anche se abbiamo perso la Juve. La Fiorentina, secondo me, deve principalmente ritrovare l'umiltà dell'inizio del campionato perché noi eravamo umili e molto concentrati su quello che facevamo e sicuramente si riusciva a dare e a imporre il nostro gioco a fare quello e le altre squadre non capivano quello che si faceva. Oggi invece ci siamo arrivati forse troppi complimenti, troppa roba, non lo so che dire perché sui giornali tutti i giorni c'era un articolo si vinceva la Champions, un giorno si vinceva il campionato, cioè forse troppi complimenti ci hanno portato a affrontare delle partite che magari erano determinanti tipo il Pescara, il Catania stesso, forse affrontarli in maniera superficiale anche se poi le abbiamo dominate qualcuna. Però questo è un dato di fatto che non abbiamo fatto quei punti che oggi ci avrebbero consentito di essere secondo in classifica pur avendo perso a Torino o pur avendo perso in altri posti. E chiaramente niente, bisogna, ripeto, trovare l'umiltà di prima e cominciare a rimboccarsi le mani e lasciare da parte le belle cose che ci siamo detti e cominciare a pedalare come si faceva una volta. Bene, grazie mille Sauro. Adesso ascoltate che cosa, anzi guardate che cosa ha fatto il nostro regista, dove è stato stamattina e che cosa è successo in un posto qualunque. Vediamo un po'. Frusto Roncaglia perché doveva essere Dunga come duro come Dunga e invece da un difensore così non si può dare una palla a Vucinic. Tieni Roncaglia e uno anche ai ciuffi perché tu devi tornare alla sverta. Veloce! Io voglio frustare Montella perché non ha saputo preparare la gara di Torino. Ci ha fatto andare laggiù per farci fare una figuraccia. Tieni Montella! Tieni! Ciuffi! Torna presto! Ciuffi! 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 Maren Makane Jovetic gioca porca miseria! Vai! Impegnati! Maren Makane Jovetic Allora sono Marco io vorrei frustare chi non si è comportato bene domenica in campo tipo Jovetic Montella Gonzalo Rodriguez e tutta la compagnia viola. Za! 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 Frusto Roncaglia Za! 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 Io frusto Antonio Conte e il suo maledetto parrucchino E un saluto a Mario Ciuffi il grande pontefice Massimo Bene E io frusto Montella perché mi sembra che sia un po' troppo frustuoso Io ai giocatori della Fiorentina non la do a nessuno la do solo ai Ciuffi la frustata Ciuffi devi tornare Ciuffi devi tornare Ciuffi devi tornare basta Tu non lo ne sei digita tu e troverai TVR più TVR più la tv del pallino Allora avremo un applausone alla cucina dei vivoli La cucina dei vivoli ve l'ho detto è stata una sagoma Adesso però avremo poi altre sorprese però adesso ti lascio la parola con il regista Jonathan Tu sei attrice tu sei ma nel mondo dello spettacolo lui potrebbe anche servirte a qualche cosa La Fiorentina e non può essere umile con la Juventus la Fiorentina deve essere arrabbiata con una squadra come quella sono deluso dall'atteggiamento dovevano andare lì arrabbiati e per vincere Quello di sicuro Poi non condivido molte scelte Purtroppo la partita adesso è andata in questo modo tu che cosa dici per l'Inter adesso e cosa dobbiamo come possiamo operare Penso che la Fiorentina farà molto bene Promostio per vincere Bene Mingozzi Vai Io spero che vada tutto bene bisogna mettere da parte un po' di critiche secondo me perché ne sento troppe sui giornali radio tv ce ne è un po' troppe Io sono fiducioso secondo me si vedrà una bellissima partita Iovesic si riprende in questa partita Spero proprio di sì Bene Ce lo auguriamo tutti Allora io ti mando adesso dove? Al tavolo della Stefania Ubi vai laggiù perché lei sta male se vede il suo regista qua e lei non dice nulla sta male allora vai là dopo ti faccio andare a questo tavolo qua perché lui ti aspetta Stefania Stefania arrivo Allora anche a tu dobbiamo farti una domanda ovviamente sulla nostra Fiorentina che cosa ne pensi insomma di questo momento un po' particolare? Allora io ne penso come mio compagno Jonathan che si dovrebbe arrabbiare di più io devo dire una cosa attiva che gobbi sono come politici sono abituati a diciamo rubare non glielo fate fare mai più né a politici né a gobbi beh questo è un concetto molto ristretto ma che ci fa capire insomma la mentalità della nostra Stefania vuoi che proseguo in mezzo ai tavoli Salvatore? C'è il signor il signor bene mi sposto Bigliotti che è laggiù al tavolo Bigliotti il nostro amico Bigliotti prego si alzi pure venga no e stai a farlo lì al sedere faccio al sedere? va bene mi piace al sedere allora si è creato appunto il caso Iovetic insomma lo sa meglio di me che in questo momento questo ragazzo è un po' in questo momento critico insomma della stagione che cosa è successo che cosa si aspetta da lui lo stesso Montella insomma ci ha detto che come minimo si aspetta due gol a partita da un campione come lui un top player ma che ritorni Iovetic che l'era ora non è Iovetic bravo bravo grazie grazie Bigliotti allora bene adesso passa dall'altra parte passo di qua vai dal nostro amico in fondo laggiù se vuol dire qualcosa poi vai il babbo Mingozzi al tema ciao buonasera allora niente stiamo parlando appunto dell'Inter questa partita decisiva per quanto riguarda il campionato della Fiorentina perché qui insomma non si scherza adesso certo che si deve fare che dire sinceramente non so che dire io spero tanto che ci si faccia stavolta è un recupero importante insomma per comunque rimanere nella zona Europa beh direi sì direi insomma non lasciamo niente al caso ecco voglio dire andiamo avanti mi sembra la squadra ci sia ci si è visto altre partite magari dove la squadra si è impegnata a parte quella di Domenia poi il resto mi sono piaciute tutte sinceramente ho visto l'impegno fino a un fondo io spero tanto che ci si riaffacci ecco ritorniamo alle origini questo è il messaggio dei nostri tifosi questa sera per quanto riguarda la Fiorentina vai Artemio è il suo amico Artemio vado di là allora perché lui non vuole essere intervistato non so come mai è la privacy Artemio non so si muove vai Artemio prego Artemio Artemio no eh no io vi ringrazio tutti di essere venuti qua a fare questa bellissima trasmissione penso che la Fiorentina sia a fine corsa perché non ne possano più addirittura erano sopravvalutati prima e ora cioè a me mi sembra che non vadano più giustamente parlavamo prima di Ovetici ma io Ovetici lo vedo grasso borso non corre non ha voglia forse era meglio farlo andare via ci aspettiamo qualcosa dai nuovi arrivi questo non lo so perché non non sono addentro a queste cose abbiamo un signor giocatore è sceso in campo scenderà in campo Sissoko io gioco a carte a quale gioco erano come dicevi prima la Beppa la Beppa bene faremo un'altra puntata sulla Beppa prossimamente bene allora abbiamo Simone Simone annunciati è latina è latina perché lei è molto tiposa ma è latina anche prego sull'Inter sull'Inter spero si faccia una bella partita sicuramente la Fiorentina fa una bella partita perché alla fine quest'anno la Fiorentina ha sbagliato una sola partita quella purtroppo con la Juve però non ha sbagliato una sola a mio modo di vedere le altre partite pur perdendole abbiamo imposto il nostro gioco abbiamo fatto tornare la gente allo stadio ci siamo rinnamorati di nuovo della Fiorentina dopo due anni di Calvario sono molto fiducioso nel nostro tecnico è un tecnico giovane che è come la nostra squadra è giovane credo che imparerà dalle sconfitte così come ha imparato dalle vittorie questo è il mio il mio pensiero sentiamo anche la mamma che cosa dice la nostra Tina ti passo il microfono parlami di Montella io volevo parlare dei giocatori invece penso che qui quando vengano qui a Firenze a Firenze ci deve essere qualche cosa che li svia perché a me i giocatori di oggi non mi sembrano quelli che sono arrivati ieri Gonzalo Rodriguez che è lo stesso difensore di quando è arrivato Roncaia è lo stesso difensore no ma a Firenze che cosa c'è che li svia così è questo che vorrei sapere bene a questo punto forse c'è qualcosa nell'area no a questo punto dobbiamo dare la parola alla regia per la pubblicità e poi io vado da Domenico e da Cristiano pubblicità 196 di andare al mare vi salutiamo, arrivederci caro Mario dove mi stai portando? vieni caro Tazza, ti porto nell'Olimpo delle carrozzerie da bigliotti ecco il mio amico Giovanni sono lieto di avere i ciuffi, il grande ciuffi nella mia carrozzeria ma questo non basta invitiamo tutti a venire numerosi alla carrozzeria bigliotti a Firenze in piazza Berti accanto al quartiere 2 dopo tanti anni siamo ancora al supermercato Margherita a Firenze nel Viale dei Mille vicino a me l'amico Sauro venite vi aspetto, troverete tanti prodotti freschi e di qualità e tante offerte e pesce freschissimo a Tavarnuzze manetti legnami in via Cassia 133 travi e materiale da tetto, casette in legno e arredo giardino da esterno pavimenti e rivestimenti taglio a misura manetti legnami vi aspetta in via Cassia 133 a Tavarnuzze GraffiLine dal 1994 a Firenze in Viale Manfredo Fanti dal privato al professionista dalla piccola alla grande azienda tutti si rivolgono a GraffiLine per piccole e grandi esigenze di stampa di finitura post stampa di grafica di acquisizione ed organizzazione documentale sul sito www.graffiLine.it scoprirà il mondo GraffiLine a breve nascerà anche la sezione ePrint l'e-commerce della stampa che darà la possibilità ai clienti di usufruire di tutti i nostri servizi direttamente dal proprio computer di casa dall'ufficio dall'azienda ovunque si trovino il bar pasticceria Le Torri è pasticceria produzione propria punto pranzo aperitivi bar pasticceria Le Torri dolci su ordinazione bar pasticceria Le Torri via Empolese 3 San Vincenzo a Torri a Scandicci Firenze 1-9-6 digita tu e troverai TVR più TVR più la tv del pallino eccoci tornati eccoci di nuovo allora siamo all'ultimo tavolo bene grazie grazie l'ultimo tavolo dove abbiamo Domenico e Cristiano vai allora vuoi iniziare te con l'Inter con la Juventus e fai come vuoi no onestamente vedendo la partita sabato la prima volta vedo una Fiorentina timorosa quindi credo e con l'Inter ci sarà comunque una ripresa anche perché la Fiorentina l'abbiamo visto nelle partite precedenti era una bellissima Fiorentina ci ha fatto esaltare quindi credo che sia un episodio bisogna essere fiduciosi e comunque credo che che con l'Inter comunque la Fiorentina si possa rifare ecco ecco io invece a Cristiano volevo fare un'altra domanda siccome tutti parlano di Jovetice che tempo fa valeva 30 milioni di euro e adesso non gliene danno nemmeno 15 alla Fiorentina cosa è successo? è successo che gira voce poi non lo so se sarà vero o no che lui sia invogliato dal suo procuratore a giocare male per essere poi venduto a prezzo più basso a giugno però insomma mi sembra un controsenso perché il valore io guarda sabato era a Torino lasciamo stare a parte la partita come è stato e c'erano queste voci e queste voci girano perché lui ha perso cioè non salta più l'uomo ha perso proprio completamente un giocatore in quella maniera che non riesce più a puntare l'uomo e a saltarlo è finito non c'è alternativa ma tu non dai nessuna colpa a Montella di questa cosa? secondo me no secondo me si sono un po' montata la testa mi sbaglierò non lo so diceva bene la signora prima Rodriguez Roncaglia due mesi fa erano dei fenomeni ora sono diventati giocatori normali può darsi a Firenze ci sia qualcosa di strano pensi che a giugno succederà qualcosa veramente? sì bene grazie allora Lucia bene rifatti da capo ricominciamo con i nostri ospiti ricominciamo con i nostri ospiti bene non so se poi ai cavoli c'è qualcuno che non ha parlato che vuole fare una domanda a qualcuno dei nostri ospiti magari a Poldino ma per esempio la nostra Stefania Ughi ti ha detto tutto ora dopo andiamo a perché lei non so se lei non la fai parlare succede qualcosa succede qualcosa anche l'altra volta mi ha detto hai fatto parlare c'è una tacchellina e me mi ha lasciato una parte non c'è un microfono adesso no adesso no dopo andiamo a intervistarla la facciamo sorridere e basta io darei la parola al nostro Poldino si si ricomincia da capo per continuare diciamo la chiacchierata Scusa visto che lei che ha fatto la domanda di Jovetic non dici niente io sono io sempre io vorrei che tu parlasse anche dei nuovi arrivati magari di questo Sissopo che c'è tanta speranza intorno a lui allora intanto su Jovetic dico che è un giocatore che insomma non si discute è arrivato però fino a questo punto a questo momento forse qualche domanda è giusto è giusto porsela perché il ragazzo l'ho visto comunque in campo mi dà l'idea di impegnarsi ci prova però qualcosa non gli riesce quindi penso che lui psicologicamente abbia una sorta di blocco abbia qualche problemino che non lo fa esprimere in campo come tutti lo conosciamo l'anno scorso le sue prestazioni sono state fondamentali per salvarsi dalla retrocessione passando a Sissoko la bella notizia è che domani sarà a Firenze si allenerà con la squadra è un giocatore di caratura internazionale un ottimo mediano è quello che un po' mancava alla Fiorentina la Fiorentina aveva questi due ricambi Migliaccio e Romulo una sorta di due ibridi due giocatori che a modo loro che a modo loro non hanno dato qualcosa in più quando uno tra Borca Valero o soprattutto Pizzarro o Aquilani sono stati assenti quindi Sissoko sarà credo molto molto importante chissà che già contro l'Inter non possa essere a disposizione sicuramente sarà disponibile rientrerà anche Aquilani dalla scolifica così come Migliaccio diciamo l'emergenza al centrocampo è un po' finita però Sissoko lo conosciamo tutti Mazziala lo ha avuto sia a Valencia che a Liverpool quindi è uno dei suoi giocatori diciamo uno dei suoi prediletti penso di Migliaccio si possa fidare al cento per cento assolutamente bene allora velocemente Pietro Targioni io ho fatto la domanda a Cristiano su Montella e non è che poi lui dice Montella non do colpa però Montella qualche errore lo fa qualche volta ma sicuramente è giovane quindi qualche errore bisogna anche concederglielo comunque io penso noi i giocatori li abbiamo l'allenatore è buono ce lo invidiano in tanti e penso che già da domenica riusciremo a cambiare qualcosa non credo che si possa continuare a giocare domenica anche perché come diceva prima il nostro amico laggiù non mi ricordo come si chiama è l'unica partita e sinceramente abbiamo giocato male il resto abbiamo giocato bene ma parliamo però anche in bene di questa Fiorentina che ci ha fatto tornare a sorridere dopo tanti anni insomma molto down che abbiamo vissuto qui a Firenze abbiamo ritrovato un Luca Toni in splendida forma insomma che sinceramente fa proprio la differenza vero Lorenzo? certo anche se non è più giovanissimo però 36 anni ricordiamolo però secondo me c'è ancora una marcia in più anche se le ultime partite non è brillato tantissimo però io gli darei fiducia anche alla prossima partita perché a Firenze ha sempre dato il meglio quindi secondo me domenica sarà importante bene ancora non è l'ora manca tre minuti bene andiamo da Chiellini perché a Chiellini io volevo chiedere qualcosa anche sul non solo sul calcio perché Jonathan Chiellini ha tante attività so che andate a dopo Sanremo fate tu e Stefania sì parteciperemo a questa trasmissione condotta da da Rossana Barbarossa che si chiama La Bella e la Voce andrà indifferita su Sky sui canali 7 e 8 è un dopo festival di Sanremo ci saranno presenti i manager di Renga di Tiziano Ferro e insomma di tutti quelli che sono i cantanti in auge ora in Italia io e Stefania abbiamo scritto un pezzo video opera che porteremo e faremo anche un pezzo per uno individuale e questo è quanto è in gioco insomma potrebbe arrivare una proposta importante contrattualmente per il resto dopo il film che abbiamo fatto con voi con Mario come protagonista a cui porgo i miei più cordiali saluti un applauso per Marione vorrei se vorrei spezzare un minuto la Fiorentina perché io ho scritto la Fiorentina ho scritto un piccolo pensiero per Mario per Mario vai tra un po' non ti uccidevi del tuo stesso amore era troppo per entrare in un solo cuore ma ora che è scoppiato tutto si diffonde in noi che lieti siamo di condividere il tuo dolore caro Mario questo è il tuo nome tutti lo conoscevamo ma mai come ora non sei amato per ciò che hai ma per quello che sei e non ti basta tu fai uno stadio di un letto di ospedale proprio come la Fiorentina ma lei per ciò che ci dà tu per ciò che non ci puoi dare anche stasera che non sei con noi bene bravo grazie Jonathan grazie mille adesso la parola alla regia perché abbiamo una chicca dobbiamo guardarla vai eccoci insieme qui da Mingo Calzature a Grassina vicino Firenze insieme al nostro Lorenzo qui all'interno del vostro bellissimo negozio un sacco di scarpe di calzature se da uomo che da donna parlaci un po' più però diciamo della moda del momento per esempio per me che cosa mi potresti consigliare degli stivalini non so stivalini ditta felmini stivalini corti pompierini articoli più alti con tacchettino un po' più alto ma non so le borchie al momento vanno tantissimo le borchie quindi per me questo potrebbe essere un prodotto buono bene però vedo che c'è anche il nostro amico Marco che viene qui e ci raggiunge ci parla anche lui un attimino del negozio te viceversa per quanto riguarda l'uomo che cosa ci puoi dire? ma ora vanno tutte cose un po' più sportive tutte cose cioè l'elegante non lo vuole quasi più nessuno però lo sportivo si vende benissimo ecco avete un sacco di opportunità da poter offrire ai nostri telespettatori sì direi che articoli ce ne sono tantissimi poi qui insomma c'è sempre cose anche a dei prezzi ottimi ottime promozioni insomma tutto l'anno in genere c'è sempre qualcosa quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire qui da Mingo Calzature però so che voi siete anche grossi tifosi della Fiorentina quindi ovviamente due battute anche su questo inizia pure te Lorenzo è un bellissimo momento quest'anno almeno ci fanno divertire Montella ci fa giocare bene la Fiorentina va bene tutto a posto se tu potessi portare qui un giocatore della Fiorentina chi potresti portare? beh ce ne è uno solo chi è? Tognoni ah beh quindi si va nel passato però naturalmente rimane il nostro numero 10 che c'entra ora ora ce ne è non saprei sinceramente quale portare perché ora penso che quest'anno c'è niente da dire di nessuno quindi vi ringraziamo siamo qui contenti di essere venuti a trovarvi e vi invitiamo a tutti i nostri telespettatori e venire qui da Mingo Calzature a Grassina vai Lucia siamo sull'altra parte nuovo qui insieme alla nostra amica Stefania insomma ci fa sempre piacere un sacco appunto averla qui nelle nostre frustate in tour so che lei voleva fare appunto un augurio particolare al nostro Mario e dirci qualcosa di particolare anche su della valle allora io ringrazio innanzitutto per lo spazio che mi date e ringrazio e faccio anche ringrazio Scaravilli e anche te che sei sempre dolce con me dolce dolce no è buonissima ed è anche bravissima io ti auguro tantissimo successo che già hai ma te ne auguro ancora di più lo stesso a Scaravilli grazie allora faccio i miei miei auguri a Ciuffi perché poveraccio mi dispiace per quello che è successo ma speriamo che sia di nuovo fra noi io volevo augurare buona fortuna a tutti e oltretutto volevo fare una diciamo un quesito a della valle se mi vede allora io non apprezzo devo dire una cosa purtroppo cattiva è un suggerimento poi mi potete contestare il portiere della Fiorentina che non rende secondo me più di tanto della valle purtroppo deve essere cattiva perché è qui di Fiesole già avete capito a chi mi riferisco deve far passare meno palle importa se no aumentate la difesa durante le partite perché è quello che ci fa perdere secondo me e riguardare la cosa di gioco tutto qua come ammazzate per questo grazie naturalmente parliamo di Emiliano Viviano l'abbiamo capito perché appunto ci hai detto che viene da Fiesole ok grazie Stefania do la palla al mio e io do la palla al regista che è stato di nuovo al mercato in tanti luoghi vediamo che cosa hanno detto senti io ce l'ho con gli Ovetich perché bene o male non si sa se vuoi restare alla Fiorentina andare via questo è un faggo se vuoi andare via lo dica vado via non ha frustato gli Ovetich io frustrirei gli Ovetich perché bene vadi via e lasci spazio a quelli migliori di lui e tanti altri ma il peggiore è soltanto lui e poi mi auguro la Fiorentina si riprenda veramente e torna ai vertici sempre più in alto io direi che bisogna cominciare proprio a frustrarli tutti perché alla resa dei conti questi sono dei vagabondi non possono fare delle partite favolose che abbiamo visto passato e ora sono 4 domeniche che proprio non hanno voglia di giocare io credo che alla resa dei conti i soldi ripegliano belli puliti e allora Fernanda via frustarli ma frustarli bene eh noi non ci aspettiamo tantissimo ma vogliamo per il momento ripare in Europa League certo come no certo ai ciuffi auguri torna presto eh mi dare mare è dura ma per Conte lo faccio io tieni Conte basta ora basta vai frusto Jovetic devi giocare meglio ma rimane tu ti devi impegnare di più un'altra frustata la volevo dare a chi la volevo dare a tutti gli altri giocatori della Fiorentina va bene e l'ultima frustata la riservo a una personcina che gli garba un parecchio le donnine a me tocca lavorare un mese per guadagnare lo stipendio ma Jovetic basta due pedate a lavorare come i ciuffi 1,9,6 digita tu e troverai TVR+, TVR+, la TV del pallino ascolta Salvatore secondo me Mario quando vedrà che sei frustato riderà come un pazzo se venerdì lui le vede si diverte un sacco da morire e sai cosa ti dirà? vuol sapere cosa dirà? dimmelo perché un buon pensione ci pensa vero a posto allora Sauro vai adesso hai sentito tutti i commenti questo commento su Viviano sei d'accordo te? ma pronto? sì sì beh tutto sommato sì mi dispiace perché è di Firenze mi dispiace perché mi sta simpaticissimo mi dispiace per tutto questo però secondo me i punti deboli della Fiorentina sono proprio il portiere il portiere è troppo non mi piace né lui né nell'altro portiere nel neto non mi piacciono però che dire se abbiamo questi dobbiamo andare avanti con questi però diciamo insomma ha un po' migliorato adesso Miliano Viviano nella seconda mancia diciamo del del rinserimento di Montella adesso ecco un po' meglio sicuramente Viviano cioè sentivo dire delle cose dice ma non si impegna qui e là no sicuramente darebbe un pezzo di cuore per giocare e per vendere abbiamo visto di Magrido insomma sì sicuramente non puoi dire bene di lui non si può certamente giudicare per l'impegno e per tutto quello che fa però non lo so non mi sembra molto reattivo il portiere anche che domenica invece buttarsi si inginocchia e la palla gli passa molto vicina a pali questa è una cosa che mi preoccupa Sauro ma ti ricordi il nostro portiere le prendeva tutte sì ora non mettiamo Viviano è un ottimo portiere sì ma il nostro portiere magari forse sente troppo Firenze secondo me sente troppo Firenze perché tutto sommato non è male passiamo al nostro Cristian Gallo insomma che ci faceva vedere anche il suo cd se non ero è portato qui da noi parlascene un attimo vai questo è un ep che è stato edito dal produttore Marco Lamioni se vuoi facciamo vedere la copertina Marco Lamioni è un ep non è un album ci sono sei tracce di cui tre sono interamente scritte da me più una cover e più due inediti scritti da un autore che si chiama Paolo Palazzoli è uscito a dicembre in versione diciamo vicino a Natale all'incirca e adesso sto intraprendendo insomma la promozione di questo disco poi faccio anche sfilate svolgo anche l'attività di indossatore insomma le cose stanno andando abbastanza bene e ovviamente certo bisogna anche accontentarsi oggi come oggi perché sono tempi difficili nel senso non è tutto automatico bisogna lottare accontentarsi purtroppo perché c'è bene ma noi ti auguriamo ogni bene insomma che abbiamo un grande successo con questo io sono stato al teatro a vederlo è molto bravo bene allora Fabrizio Pilotti dai dategli il microfono dimmi no dimmi tu avresti riassunto tutto quello che hanno detto c'è qualche pecca qualcosa da aggiungere sul portiere sul montello sul portiere o forse paga ancora lo scotto dell'infortunio che ha avuto circa due anni fa sicuramente forse la pressione di Firenze però poi non lo vedo così male 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 anche se mi sembra in giro non ce ne sia altro di meglio saranno due o tre portieri meglio di lui in Italia poi si contano sulle dita secondo me probabilmente il livello è un po' basso in generale abbiamo lui non so però non vedo un'alternativa molto più forte di lui bene allora era l'ultimo mi sembra che sia lui vai Andrea prego Andrea noi parliamo di Viviano ti piaceva più lui più Neto che cosa avresti fatto al posto di Montella se avresti potuto scegliere io sinceramente preferisco Neto Viviano tifoso Viola grandissimo di Fiesole tutto ok però non lo so mi sembra faccia degli errori di base proprio come portiere ora io non sono un portiere non sono un intenditore ma mi sembra cioè fra i due preferisco Neto comunque sia penso che il problema del portiere ci sia detto questo vorrei precisare una cosa io vorrei che tutti si ritrovasse comunque un po' di ottimismo perché la squadra che abbiamo ammirato nella prima parte di campionato ci ha fatto vedere delle cose importanti e secondo me una squadra che ti fa vedere certe cose non può diventare in poco tempo concordo pienamente dei brocchi non possono diventare dei brocchi hanno fatto vedere delle cose io e tanti anni vado allo stadio però sinceramente non credo di aver mai visto una completezza come come quella che abbiamo visto perché in dei tratti erano una bella squadra no no erano una bellissima squadra e lo sarò sicuramente tutt'oggi quindi è impossibile che siano diventati dei brocchi di recuperare questo momento prego Salvatore bene regia la pubblicità 196 digita tu e troverai tvr più tvr più la tv del pallino in via nazionale a Firenze cartoleria Cipriani articoli per la scuola fax e fotocopie bianco nero e colore servizio stampa tipografia timbri e targhe rilegature plastificazioni scritte ed etichette adesive stampati fiscali registri e archivio forniture ufficio cartoleria Cipriani via nazionale 133 rosso a Firenze ristorante Le Lance un ambiente raffinato ed elegante situato sulle colline fiorentine dove è possibile gustare un'ottima cucina toscana prova le nostre proposte come la pasta fatta in casa la tipica bistecca alla fiorentina il gran fritto dell'aia e gli squisiti dolci tutti preparati dallo chef Andrea Boninsegni ristorante Le Lance ottimo anche per cene di gala matrimoni banchetti e cene aziendali ristorante pizzeria e cantina toscana Le Lance via Mantellini 2B Fiesole Firenze il gusto giusto sì il gusto giusto è in piazza Togliatti a Scandicci gelateria cioccolateria e bar ritrovo di spettacolo e di sport il regno dei giovani di Scandicci il gusto giusto Lisa e Sara vi aspettano in piazza Togliatti a Scandicci telefono 055 0132 223 il gusto giusto vicino a me Mario e Costanza abbigliamento abbigliamento in via Gabriele di Annunzio 9 Firenze abbigliamento intimo per tutte le taglie e tutte le età grazie Mario di essere venuto a trovarmi in questo negozio aspetto tutti i nostri clienti tutto l'anno a presto e a Leviola arrivederci 1 96 digita tu e troverai TVR più TVR più la tv del pallino bene eccoci tornati in onda allora abbiamo pochissimi minuti 7-8 minuti vorrei tornare qui dai nostri amici Domenico e Cristiano per insomma un pronostico per l'Inter ovviamente che cosa ci possiamo aspettare da questa Fiorentina ovviamente una vittoria per quanto riguarda il recupero insomma su quello che è accaduto con la Juve bisogna reagire uno fisso uno fisso e segna sesso con addirittura bene un grande rilancio di sesso con prima partita esordio con go e per te invece uno fisso e riscatto secondo me di Ovetice perché se ne parla anche troppo anche troppo male anche troppo male bisogna anche comunque vorergli bene perché secondo molti è il nostro top player quindi bisogna tenercelo fino a giugno e spero che fino a giugno ci possa portare dove in Europa in Europa minimo Europa League e massima aspirazione al champion ci speriamo tutti incrociamo le dita vai veloce Lucia perché poi non abbiamo più tempo un pronostico da parte di tutti veloce veloce dai prego uno fisso bene va per la maggiore stasera per forza contro la Fiorentina mai nella vita per lei signora concordo col signore Sissoko dato che è arrivato adesso ci sta che non sia deviato ci dà subito una gioia bene 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 vado proseguo Artemio è scappato è scappato Artemio bene allora vai all'altro tavolo vado da Babbo Mingo per te un pronostico anche per me uno fisso e penso invece Savic Savic bene torna al gol il nostro Savic grandissimo giocatore anche lui bene Giovanni Bigliotti proseguiamo di là andiamo dal nostro amico Bigliotti che ci dà anche lui il suo pronostico per questa giornata di scontro con l'Inter uno fisso bisogna fermare Cassano però lo fermiamo e chi segna? io spero che ritorni io bene io io in gol grazie mille le due signore Bigliotti un pronostico veloce signora Bigliotti mi dica pure anch'io uno fisso però chi marca chi marca marca va bene l'altra signora l'altra signora obbligatorio vincere bene vincere poi chi segna segna non ci interessa bene allora mentre Lucia torna qua io velocemente ai nostri ospiti qua pronostico tutti in fila dai uno tu due a uno il microfono due a uno per te Poldino due a uno anche secondo me Bigliotti due a zero Sauro due a zero perché non voglio soffrire il nostro Cristian io credo in un uno a uno X e qui è arrivato a Stefano provvisamente grazie due a uno ma cambierà la tattica difensiva bene e poi abbiamo tre a due gol di Liec all'ottantacinquesimo speriamo dai ci dia questa gioia noi siamo in chiusura dobbiamo ringraziare tutti i nostri ringraziamo i nostri amici Artemio e delle relance certo li ringraziamo tantissimo per questa frustata in tour appunto intanto Artemio si vuole perché ogni volta ci danno questa possibilità grazie mille davvero grazie un grosso successo perché poi ricordate ricordate e poi vi vedrete anche su facebook vero? certo noi lo facciamo sempre questo bene ringraziamo tutto il parterre dei nostri ospiti di chi è stato con noi stasera tutti i nostri sponsor tutti quanti e ringraziamo soprattutto il nostro grande regista Simone il nostro grande scusa scusa Francesco Vivoli e il nostro Rosario Mantero grazie ora io con Simone Artemio e poi un bacione grande 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 da tutti noi al nostro Mario Sciuffi Mario Sciuffi un grande abbraccio un grande abbraccio la frustata in tour senza di lui non è frustata quindi questa tradizione è stata fatta per onorare Mario Sciuffi dedicata a lui arrivederci grazie buonasera Firenze Firenze magica viola che gli stadi fai tremare fammi cantare nuovi giorni di vittoria Firenze viola e dei fiorentini in coro siamo una cosa sola tutti insieme forza viola siamo una cosa sola e domani forza viola che egg a guarda hai ut Grazie.